Oggi proviamo una grandissima novità della cala, il nuovo modello di U-Bass fatto in bambù. Lo strumento appare a prima vista subito molto robusto, molto solido, è interamente realizzato in bambù. È sicuramente la scelta più eco-friendly per quanto riguarda il materiale per costruire uno strumento musicale. Sono rimasto molto sorpreso dalla consistenza del bambù massello. Come dicevo, lo strumento è interamente realizzato con questo materiale. Il top, le fasce, il fondo sono tutte in bambù massello, come il manico, la tastiera e anche il ponticello. Un nuovo materiale innovativo usato dalla cala per il capotasto e la selletta si chiama GravTech Nubon. Questo strumento ha sicuramente un ottimo volume, ha un gran sustain e il bambù restituisce dei toni molto brillanti. Inoltre il bambù è un legno davvero molto resistente. Questo assicura al vostro strumento una grande durata e sicuramente tanta affidabilità. È equipaggiato anche con un preamplificatore attivo della cala. La verniciatura è satinata e rende lo strumento davvero molto bello. Andiamo a sentire come suona. Grazie a tutti. Volete uno strumento molto resistente e sicuramente molto affidabile? Che dire? Che iete un basso bambù. Ciao!